La piccola Uma è venuta alla luce in Nebraska negli Stati Uniti. L'ha partorita Cecil, 61 anni, ma è stata concepita in vitro unendo gli spermatozoi di Matthew, figlio omosessuale di Cecil, e un ovulo di Lea, sorella di Elliot con cui Matthew è sposato. Una vicenda, ai limiti dell'incesto, che getta squarci inquietanti nella rincorsa ad avere figli ad ogni costo. Cominciamoci a chiedere, ma sono persone? Vanno valutate come persone? Oppure rischiano di diventare delle cose di appagamento dei desideri? Questo davvero deve far riflettere sui limiti che invece occorre porre alla tecnologia. Non tanto in nome di un'etica stratta, ma dell'umanità, delle relazioni umane, verso una situazione il più congeniale possibile, verso il più fragile. E qui il più fragile non è né il papà gay, né la nonna portante, né la cognata, ma proprio il bambino che nasce o che si è predeterminato di farlo nascere in quelle condizioni. Allora è certo che la legge deve farsi carico di queste situazioni per evitare vicende estreme come questa. Dietro la retorica dell'atto di amore, che sarebbe la base di questa nascita, emerge prepotente il tema dell'utero in affitto o maternità surrogata, pratica contestata anche da voci del mondo femminista. In realtà cose di questo genere, cioè nella gratuità e nella parentalità, sono una straminoranza, una minoranza esigua, si conteranno veramente questi casi nel mondo sulle dita di una mano, mentre la surrogata è un fenomeno essenzialmente commerciale, direi totalmente commerciale, è un fatto di sfruttamento e di compravendita dell'umano. Grazie. 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 Grazie.